Ed ecco che siamo qui in questo meraviglioso parco naturale, il Parco Cava delle More a Munselice. Io penso che sia una grande occasione per tutti noi per godere di concerti o di eventi in luoghi naturali come questo. Ed è un'opportunità che secondo me va presa da parte di tutti noi, in tutti i luoghi d'Italia. Abbiamo tanti tanti ospiti e dei grandi ospiti. Luca Minnell. Stefania Miotto Ananesh Alberto Brunetto I Tangheri Il mix che abbiamo voluto dare in questo evento è un mix che si va a intersecare la bellezza della natura, insieme con la musica, insieme con l'arte per poter godere al massimo di entrambi. Dai viaggi infiniti trattieni la salvezza dei colori, poi taglia i fiori dai tremori, la risacca di quello che non sai e che va ancora oltre la nostra gioia, fino all'amore di una donna. Grazie. A presti. Grazie a tutti.